bene un mattino si vede subito che marcia sono un mattino si vede subito si vede subito ecco il camminatore di Star Wars vai camminatore dai dai la gonfiamo lì avanti arrivano arrivano camminatore di Star Wars guai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' migliorato anche lui. E' il vito? Grazie a tutti.